Salto riuscito! Ora è il vostro momento di brillare! L'hai detto, fratello! Buona fortuna laggiù! Le ore sono! È l'ora di andare! Abbiamo azionato il mistore! Proteggetelo e mantenete sicura l'area! Devi amare questo lavoro! E vai! Rilevo tracce del nemico in arrivo! Non sono in tanti, ma non montatevi la testa! Ecco la prima ondata, ragazzi! Marcheremo la minimappa con le zone di atterraggio nemiche! Fate attenzione! Potrebbe salvarvi la vita! Stalker rilevati! Preparatevi a eliminarli! Scudini e ditori sono sotto attacco! Scudini e ditori sono sotto attacco! Un admettitore riattivato! Scudini e ditori sono sotto attacco! Scudini è inutile! Scudini e dimensioni! Scusa! Il scudo mietitore è sotto attacco. Proteggetelo! I scudi mietitore sono di nuovo attivi. I scudi mietitore sono sotto attacco. Dateci un taglio. Ragazzi, abbiamo appena perso un pilota. Dovete stare più attenti. Uno mietitore è riattivato. Tornano in azione dei piloti alleati. Ora! Abbiamo un pilota messo male. Titan nemico a terra! Non potete fare meglio di così. Davvero! Il mietitore non ha subito alcun danno. Lavoro fantastico. Il vostro Titan è schierato. Tutti pronti? Prepararsi a Titanfall! Ottimo lavoro. Ecco dei crediti. Usali per costruire alcune difese. Cerca di essere un po' più duro. Devo firme Titanfall. Sapevamo che sarebbe successo. Preparatevi a eliminarvi. Ho una battaglia per il fortale. Ho una battaglia aperta. Ho una battaglia aperta. Ho una battaglia aperta. Grazie a tutti. Fate attenzione, arriva una nuova ondata. Fate attenzione. L'ho già detto io, Davis. Doppio consiglio. Link in arrivo. Distruggeteli prima che esplodano e vi distruggano. Titan nemici in arrivo. Preparatevi. Lo scudo mietitore è sotto attacco. Proteggetelo. Lo scudo mietitore è di nuovo al cento per cento. Il per nemici avvistati, squadra. Eliminate quelle bestie. Il per nemici avvistati, squadra. Il per nemici avvistati, squadra. Gli scudi miettitori sono sotto attacco. Squadra, occhie meraviglie. Gli scudi miettitori sono di nuovo attivi. Concacchiamo la missione. Siamo in un'attività in nemico. Siamo in un'attività. Rilevo firme Titanfall. Sapevamo che sarebbe successo. Preparatevi a eliminarvi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli scudi viettori stanno per cedere. Proteggeteli. Ragazzi, lo scudo viettore si sta ricaricando. Fateci un favore, proteggetelo. Lavoro eccezionale. Non credi, Davis? Davis? E' rimasto senza parole. Titan nemici in arrivo. Preparatevi. Lavoro eccezionale. Lavoro eccezionale. Un'altra ondata! Prendiamoli! Cercate droni di occultamento. Nascondono le unità sotto di essi. Mi direi di temere gli occhi aperti, ma sapete, sono occultati. Un'altra ondata! 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 All'interno di due inizio, ma è stato alleato a taccabessare. Oh oh, ha giustato Titan Mortaio. Non spaventatevi, prendetelo a cacci. Scusi la stuzione. Titan Atomic nella vostra direzione, eliminateli. Lo scudo vietitore è sotto attacco. Proteggetelo. Il mio danneato si è accettato. Il mio danneato è accettato. Titan Mortaio, d'attenzione al nostro vietitore. Ci sono stabiliti in periferia. Scovatevi. Il mio danneato si è accettato. Consiglio spazio di stretti per ottenere la posizione. Il mio danneato si è accettato. Scudo vietitore in ricarica. Non permettete alla flotta Rymnant di danneggiarlo. Molti Titan Arc, diretti al vietitore. Abbatteranno gli scudi se li lasciate avvicinare. Non deve ascoltare attivare. Non è arrivato a scuola. Non è arrivato a scuola, sono superiore. Non è arrivato a scuola. Non è arrivato a scuola. Non è arrivato a scuola. Non è arrivata a scuola. Non è arrivato a scuola. Non è arrivato a scuola. Si sta arrivato a scuola. Facciamo riposare. Mi iniziò verticali. Cyclenoina 3, non è arrivato a scuola. Lo dettagleo è arrivato a scuola. No-3 con i jullie di plastogčius. Trovare il nostro vietitore robusto. Tutto un uglioreatanio rietitore. equipo biljantino della slessel. Copisire il suo bloccato. E rit Spitfire in scuola swirl. Volovate. Immobilite suimitore riempati. La nostra corretta è di nuovo attiva. Abbiamo appena perso un pilota. Dovete stare più attenti. Attenzione, subiti dalle critiche. Consiglio... Abbiamo un pilota messo male. Dai, gran nemico, eliminato. Non potete fare meglio di così. Davvero? Il mietitore non ha subito alcun danno. Lavoro fantastico. Dai, sono anatomici in arrivo. Lavoro che fai. Lavoro che fai. Nucleo di astuzia pronto. Oddata finale. Resistiamo fino alla fine. Nucleo di astuzia pronto. Riperdemici avvistati, squadra. Eliminate quelle bestie. Nucleo di astuzia pronto. Sì. Sì. Ho già detto. Riperdemici avvistati. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.